Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aggiornare il processore e ovviamente scaricare anche il chipset per la scheda madre Quindi in questo caso vi spiego come aggiornare il processore Ryzen Ovviamente mi ha fatto anche scaricare l'applicazione AMD Ryzen Master per overclockare pure il processore e controllare ogni specifica mossa che fa il processore nel mio PC Quindi in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina del driver di AMD, quindi driver e supporto AMD Se tu vai su chipset, io ovviamente prima di fare tutto questo devi prima vedere che tipo di scheda madre hai, che processore hai Quindi se vai su System Information, questo qua e vai su prodotto scheda di base, io ho questa scheda madre B450 Gaming Plus Max Questa è la mia scheda madre e questo è il mio processore AMD Ryzen 5 3600 6 core con 12 processori logici ed eccolo qua Quindi vado su chipset, presa AMD AM4, ovviamente per la AM4 o AM5 c'è anche scritto sulla scatola della scheda madre Quindi B450 Gaming Plus e faccio invia Windows 11 edizione 64bit oppure Windows 10 edizione 64bit Io metto Windows 11 e scarico così questo pacchetto Poi una volta fatto andiamo a cliccare l'applicazione esegui come amministratore Poi farà l'estrazione di ogni singola cartella dell'applicazione Controllo in corso per verificare che l'hardware del PC sia compatibile con i driver Ovviamente ieri ho fatto proprio l'aggiornamento al processore e alla scheda madre E ho fatto anche un overclocking automatico quindi ha fatto tutta l'applicazione AMD Ryzen Master Quindi quello che ti resta da fare è aspettare un attimo il controllo che sta facendo l'applicazione Ovviamente voi dovete installare tutte e sei Quindi dovete mettere la spunta su tutte e sei le opzioni Queste qua e fare install Ovviamente io non lo faccio perché già l'avevo fatto ieri quindi non voglio combinare casini Quindi una volta installato ci metterà un paio di minuti Poi dipende anche dal vostro disco, dal sistema, quanto tempo ci metterà E una volta fatto devi riavviare il tuo sistema operativo Questo qua era per il chipset AMD per la scheda madre Io adesso chiudo qua, si interrompi Puoi anche cancellare l'applicazione che hai scaricato E adesso andiamo a scaricare il nostro processore Quindi processori A me è processore AMD Ryzen Processori desktop AMD Ryzen 5 Processore AMD Ryzen 5 3600 Questo qua E faccio in via Windows 11 a 64 bit Come puoi vedere Aumenta così le prestazioni al processore fino a 4,2 gigahertz Puoi anche fare l'overclocking Quindi scarico questo E non mi resta che installarlo Una volta fatto tu apri il AMD Ryzen Master E da qui in poi potrai controllare qualsiasi cosa del tuo processore E fare anche un overclocking automatico Quindi aggiorni così la tua scheda madre E hai aggiornato pure il tuo processore Come puoi vedere io ho creator mode Game mode auto overclocking Ho fatto tutto auto overclocking Poi mi informerò meglio come usare questa applicazione Quindi Se questo video ti è stato utilissimo Ovviamente in descrizione ti ho lasciato quel link per il driver supporto AMD Quindi se questo video ti è stato utilissimo Su come aggiornare il chipset della scheda madre Se sei il processore iscriviti e lascia like E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial Ciao